Offriamo sicurezza, vogliamo sicurezza. E' uno dei messaggi scritti a lettere cubitali dalle guardie giurate di Pegaso che questa mattina hanno protestato dinanzi a Palazzo del Governo a Barletta. Turni massacranti di lavoro e mancata gestione della sicurezza delle guardie giurate. Sono solo alcuni dei problemi che affliggono la categoria mai risolti. Abbiamo uno stress psicofisico ormai che ha superato i limiti di guardia. Per quanto riguarda i turni massacranti di lavoro a 12 ore, molti colleghi effettuano i servizi senza il giubbotto antiproiettile o con i dispositivi come il giubbotto antiproiettile appunto scaduto, ponti radio che non funzionano. Colleghi che effettuano il servizio in una postazione vengono chiamati e vengono spostati immediatamente su un'altra postazione lasciando scoperta la postazione stessa. I colleghi ormai non ricevendo più lo stipendio che gli aspetta, tutto ciò che riguarda il contratto collettivo nazionale sono arrivati a un punto di non ritorno, non ce la fanno più. Da febbraio molti di loro non ricevono le buste paga, non hanno le divise, non viene versato il fondo FASIV né applicato correttamente il rinnovo contrattuale sottoscritto a maggio scorso dopo anni di dura negoziazione e nonostante questo i lavoratori devono far fronte a turni proibitivi comunicati anche all'improvviso senza disporre di adeguati sistemi di sicurezza. Le radio che non funzionano nelle macchine, ce ne sono uno o due nella BAT che funzionano. C'è stato detto che noi siamo pazzi perché non è vero, così non è perché abbiamo dei rapporti di servizio con le varie segnalazioni. Abbiamo FUTO dove il ponte radio risulta non funzionante. Il nostro fondo di assistenza sanitario non viene versato da febbraio. Io personalmente ho fatto una richiesta al fondo perché avevo delle visite mediche da fare e mi hanno detto che l'azienda è sospesa perché non paga da febbraio. Ci sono persone che aspettano soldi da quasi un anno. Ci sono persone che aspettano il premio produzione da marzo e ad oggi non è ancora arrivato. Ci siamo tutti che aspettiamo buoni pasto di agosto e ad oggi 9 ottobre non sono arrivati. L'azienda continua a dire alle varie testate giornalistiche e ai vari siti online che è tutto a posto. Vorremmo capire dove è a posto. Per loro dove è a posto. Oggi ci aspettiamo, evidenzia Tina Prassi, segretario generale della Filcams CGLBAT, che le istituzioni intervengano. Per dare forte il messaggio soprattutto alle istituzioni per far sì che vengano applicate le normative e le leggi vigenti e contrattuali che ripetutamente la società decide in maniera unilaterale di disattendere. E noi oggi ci aspettiamo che siano le istituzioni, che sono coloro le quali ci rappresentano lo Stato sul territorio, che intervengano e che facciano rispettare le leggi.